buongiorno allora questo blog molto speciale molto diverso perché ho avuto un'idea e ho pensato come leggete dal titolo vi faccio vedere la la vita dei miei gatti cioè un giorno di quello che combinano i miei gatti e allora l'ho intitolato l'ho voluto chiamare una vita da gatto perché così almeno più o meno almeno per chi non ha i gatti vi faccio vedere i miei gatti quello che fanno dalla mattina alla sera allora vi dico già solo una cosa che già il mio gatto apre le porte vi dico già questo per cui questo blog sarà anche un po divertente perché il mio gatto fa di tutto e di più c'è quelle volte che ridi quando fa quelle cose strane c'è proprio ogni volta che succede qualcosa mi viene da ridere certe volte diciamo che sono un po cattivi in senso che fanno i dispetti specialmente il maschio il maschio l'unico che fa i dispetti e per cui adesso vi faccio vedere in questo blog ovviamente vi farò vedere una giornata dei miei gatti così mi fate sapere se anche i vostri gatti fanno così se solo il mio anzi i miei gatti e niente ecco già ha fatto quello che non doveva fare comunque niente io vi lascio il video guardatelo fino in fondo e non lo so fatemi sapere poi sotto in un commento io vi lascio al video noi ci vediamo al prossimo ciao 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo? Andiamo. Andiamo. Ciao. Ciao. Vabbè, andiamo Andiamo Andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Andiamo Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Dica 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 cosa vuole? Dica Ma come Come ti metti? Bimbo Grazie Ma non puoi Sempre mangiare Mangiare, mangiare Tutti e due Sempre a mangiare Smettere di giocare con l'acqua Hai capito? Mi c'è per lì Per lì non mi Per lì non mi si no Per lì non mi si no Mi c'è per lì non mi non mi Mi c'è per lì non mi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.